io personalmente non credo che sia completamente dissennato chiusare un discorso novecentesco e post novecentesco dicendo che di fatto si è consumato un tempo e questo tempo viene costantemente ripetuto come se appunto nulla fosse accaduto nel decennio degli anni 2000 e anche adesso anzi forse a maggior ragione adesso pur essendoci tutti gli strumenti per uscire da questa sorta di inerzia movimento inerziale e quindi capire che ormai il discorso delle forme che il novecento ereditava e che ha meticolosamente distrutto è un discorso chiuso